FUTILI MOTIVI FUTILI MOTIVI è il cortometraggio realizzato da Massimiliano Di Simone che verrà proiettato oggi alla San Giovanni. Ci puoi parlare di come è nata l'idea di questo cortometraggio? Questo cortometraggio nasce da un laboratorio cinautografico che ho condotto insieme a Maurizio Nardelli presso la casa circondariale di Pesaro. È un laboratorio cinautografico rivolto ai detenuti iniziato nell'ottobre del 2013 la cui finalità era appunto quella di arrivare alla produzione di un cortometraggio. Un laboratorio è un laboratorio perché non sono arrivato con nessuna idea da realizzare e il progetto prevedeva che fossimo insieme ai partecipanti al laboratorio a decidere la storia e così è stato perché la storia è stata scritta in particolare da due ragazzi ma con la collaborazione di tutti quanti gli altri e abbiamo seguito tutte le tappe canoniche per la realizzazione di un film. Il gruppo di partecipanti è stato di circa 7-8 persone partecipanti che hanno partecipato a tutto come ti dicevo prima sia la stesura della sceneggiatura che alla realizzazione si sono attribuiti dei ruoli artistici per cui hanno deciso che parte girare e che ruolo interpretare sono stati presenti sul set quindi hanno pensato e organizzato tutta la questione relativa alle maestranze luci, microfono eccetera e sono stati impegnati 7-8 ragazzi più una ragazza in via del tutto eccezionale perché per quest'anno, almeno per questo progetto il corso era rivolto soltanto ai detenuti maschili l'intero film, tranne un paio di esterni è stato girato all'interno della casa circondariale quindi alcune ambientazioni, alcune location sono state ricreate con l'aiuto di altre persone perché poi oltre al gruppo di base si è aggiunto un altro gruppo che ha contribuito all'allestimento di scene nella creazione di oggetti di scena anche per la proiezione che abbiamo realizzato questa mattina in carcere con l'aiuto di altri detenuti abbiamo fatto un mega schermo abbiamo sistemato l'impianto stereo, audio quindi insomma è stato un lavoro collettivo a 360 gradi il titolo di questo film come è nato? il titolo di questo film, come tutto il film è stato pensato dai ragazzi che hanno scritto la sceneggiatura non posso dire niente a riguardo perché racconterei e spiegherei troppe cose relative al film invece ho piacere che lo si veda e dopo la visione si facciano le proprie considerazioni sul motivo di questo titolo un'attività così, quanto è importante per i detenuti? non lo so perché io lavoro con i detenuti con i ragazzi, con gli anziani con i portatori di handicap quindi per me è importante questa attività a prescindere dal tipo di utenza come si dice credo che lavorare con delle persone che sono private di un bene così fondamentale come quello della libertà e riuscire a immaginare attraverso le immagini altre storie abbia probabilmente una funzione vitale molto importante grazie prego prego